Ciao a tutti, sono Marzia Pozzato, maestra d'arte, diplomata al Dossodossi di Ferrara. I miei genitori erano sarti e avevano una sartoria. Io praticamente sono nata in questa sartoria e sono cresciuta tra stoffe e fili e devo dire che questo mondo mi ha appassionato da subito. I miei genitori avevano un sacco da fare e nonostante io avessi voglia di imparare non erano sempre ben disposti ad insegnarmi, poiché rubavano del tempo prezioso al lavoro e tutti sanno che perlomeno le sarte sanno quanto sia importante dedicare tutto il loro tempo e la cura. quando creano un abito e rubare del tempo al lavoro per insegnare ad altri diventa difficile. Difficile perché il lavoro non va avanti e tu guadagni solo se ti dai da fare. Ma io non mi sono lasciata scorreggiare, io ho cercato di rubare tutto quello che potevo guardandoli e qualche volta, naturalmente a furia di insistere, qualcosa mi veniva detta, quindi un aiuto l'ho sempre avuto comunque. Quello che dico è che la mia passione era talmente grande che di questo lavoro me ne sono innamorata. E nasce così il mio blog, che è un blog che parla esclusivamente di sartoria, quindi cucito, modellistica, quindi cartamodelli e moda. Ma parla anche di storia, perché io sono una persona curiosa e su certe cose mi sono fatta delle domande, quindi sono andata a vedere come sono nati, ad esempio, alcuni tipi di abbigliamento. Il mio blog si chiama Fashion Frozen, questo nome è stato scelto Fashion perché comunque richiama la moda, la moda fashion. Frozen perché richiama il ghiaccio. La mia nipotina ama Frozen e questo fashion ghiacciato, questa cosa, mi era piaciuta moltissimo. E quindi ho messo insieme questi due nomi. Ora sapete anche il perché ho chiamato il mio blog in questa maniera. Nel mio blog trovate quindi un sacco di informazioni gratuite, un sacco di tutorial. Io mi sono iscritta anche al canale YouTube per creare appunto dei video che potessero aiutare le persone ad imparare delle cose oppure per aiutare le persone a risolvere alcuni problemi. Con il tempo ho conosciuto varie persone e mi sono accorta che tutte queste persone avevano in comune delle difficoltà. La difficoltà maggiore era sempre nel cartamodello e ho pensato così di creare un corso del cartamodello. Quindi l'Accademia del cartamodello che è un corso assolutamente completo dove impari a creare i cartamodelli da zero che non usa squadre rapportatrici ma semplicemente le misure quindi il metro, una riga qualsiasi, una matita e la carta. Perciò è un corso anche molto facile dove non ci sono calcoli particolari ma calcoli molto semplici e dove la prima parte è assolutamente gratuita quindi tu puoi entrando nel mio blog iscriverti al corso gratuito. La seconda parte invece è a pagamento ma all'interno trovi comunque tantissime lezioni gratuite. Quindi mi trovi presente in Facebook con una pagina Fashion Froze e con un profilo Instagram. Se ami la sartoria prova a cercarmi su Facebook. Io ogni tanto sono in diretta e magari ti insegno delle cose interessanti. Ciao e ci vediamo presto!